Sefer Devarim, inizio Parashat Devarim e inizio du Libro de Devarim. Dopodiché Dio inizio parashat Devarim. no versicolo 3 e non sappiamo che Moshe reprende il popolo di una forma sottile appena lembrando i lugares dove loro peccano abbiamo un po' di divergenza in relazione alla interpretazione di ogni luogo che è citato qui la Torah dice il è di Barima, Shadiber Moshe, Venè con Israele Beber Eremba, Midbar Baharabah Molzuf Ben Paran Uventofel, Belavan, Bahatserot Vedi Zav e già Rashi explica Bambitbar tutto quello che voi aprontate nel deserto Barabah perché voi peccano Arbott Muav con le figli di Miriam Molzuf che voi si arrebbero con le figli di Miriam con le figli di Miriam con le figli di Miriam che si arrebbero con le figli di Miriam con le figli di Miriam che si arrebbero con le figli di Miriam 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 Baran Uventofel con le figli di Miriam 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 Shabbat Shalom Shabbat Shalom